tutta la mia collezione di iPhone. E se ne facessi un quadro? Ciao e bentornati dal vostro Loretek. Da collezionista e appassionato non potevo farmi sfuggire quest'opera d'arte, la creazione di un quadro disassemblando un iPhone 3G mettendolo in bella vista. Ma direi di non perdere altro tempo e di andare subito a montarlo. Se vi siete persi l'unboxing di questo bellissimo gioiellino ve lo lascio qui sotto in descrizione. Tutte le bustine sono numerate, adesso non ci resta far altro che andarle a incollare. Ci aiuteremo con il libretto di istruzioni. Cominciamo dal sacchettino A. Mettiamo tutti i pezzi sul tavolo. Io utilizzerò un biadesivo. Voi potete utilizzare anche la colla. Mettiamo tutti i pezzi sul tavolo. Mettiamo tutti i pezzi sul tavolo. Mettiamo tutti i pezzi. 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 Mettiamo tutti. Mettiamo tutti i pezzi. Mettiamo tutti i pezzi. Mettiamo tutti i pezzi. Mettiamo. Mettiamo tutti i pezzi. Prendiamolo. Mettiamo tutti i pezzi. Mettiamo tutti i pezzi. Mettiamo.